Provideo SCTV tutelerà tuttavia sempre i propri telespettatori, con il suo semaforo luminoso valido per ogni trasmissione. LED verde significa programma per tutti, LED giallo vuol dire programma che i bambini possano vedere solo in compagnia dei genitori, LED rosso è invece sinonimo di un programma destinato esclusivamente ad un pubblico maggiorenne.